Eccoci siamo qui con l'allenatore del Lecce, Serse Cosmi. Oggi deve essere sconfitta 2 a 0 contro Lazio che forse va un po' a ostacolare il Lecce verso l'obiettivo finale che è la salvezza. Poteva il Lecce affrontare Lazio in altra maniera? Poteva forse lei aspettare e inserire quella terza punta che ha messo un po' di ansia da gola alla squadra. Ma guarda, oggi sinceramente ho ben poco da riproverare. La mia squadra giocavamo contro un branco di figli di mignotali che fare gola era impossibile, potevano stare anche da qua a domani. Però, insomma, i ragazzi ti vedo sempre molto carichi. Questo è importante, finché la squadra mi segue, finché la squadra fa quei 55 falli nel primo tempo e quei 64 nella ripresa, è quello che voglio vedere io dai miei giocatori. Adesso, per favore, toglietemi la grafica, mi fate l'aggressivio che sennò qua vive il cocculone. Però, peccato, Lazio ha dei grandissimi stronzi, dei grandissimi giocatori. E' così. Noi c'è anche il gerato un po' male. Però, ecco, se quel minchione di Delvecchio non perde pala, ecco qui come state facendo vedere, e quell'altra pipa di Tomovic non si fa saltare come una gallina da Mauri, poi non prendiamo il gol del 2-0 e siamo ancora in partita.